E oggi è il primo webinar dedicato a Copernicus, alla presentazione del progetto del programma europeo per l'osservazione della terra. Abbiamo deciso di organizzare questi seminari di comunicazione interna in modalità online, dove saranno i nostri stessi colleghi a raccontarci come utilizzano il programma Copernicus, un programma che sempre più entrerà a far parte delle attività ordinarie di monitoraggio del nostro istituto. In questo primo seminario lascerò subito la parola al Presidente Stefano Laporte e al Direttore Generale Alessandro Bratti, che ci parleranno del ruolo strategico e operativo di Copernicus per le attività di monitoraggio ordinarie del nostro istituto. Vi saluto e ci scusiamo ancora per l'inconveniente tecnico. Presidente Buongiorno a tutti. Considerato anche questo ritardo nell'inizio dei lavori, il saluto sarà ancora più breve di quanto avevo previsto. Intanto volevo davvero salutarvi tutti quelli che stanno partecipando via streaming a questo seminario e darvi un abbraccio e spero veramente quanto prima ci si possa tornare ad incontrare. Detto questo, abbiamo voluto insieme al Direttore e ai colleghi che si occupano di space economy all'interno dell'istituto, sapete che di recente è stata costituita e strutturata una specifica area, quindi un'unità organizzativa, abbiamo voluto proporre questi momenti di coinvolgimento e di informazione dei colleghi dell'istituto, proprio perché come più tardi vi diranno i colleghi che si occupano più direttamente di questo settore, di questo settore di attività, si tratta di un'attività che andrà ad informare in maniera sempre maggiore le attività dell'istituto in maniera trasversale, dell'istituto ma anche del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e quindi richiederà un impegno e un coinvolgimento trasversale delle strutture, dei dipartimenti, dei nostri uffici, dei nostri servizi, delle nostre aree, anche nelle attività di ricerca. È facile, o perlomeno si possono facilmente immaginare anche per le situazioni recenti che sono accadute nel Paese, per quello che stiamo vedendo anche in questi giorni, quante e quali possano essere le applicazioni e i benefici dal punto di vista tecnico-scientifico da un uso massiccio ma al contempo ragionevole e ragionato e progressivo di queste tecnologie. Basti pensare al lavoro sulla qualità dell'aria, alle modellistiche che abbiamo in qualche modo ricavato, basti pensare complessivamente al tema dell'osservazione della terra. Molto rapidamente ripercorrò velocemente la storia della partecipazione e della presenza dell'istituto su questo tema così centrale, sapete che l'idea è una intuizione del Presidente del Bernardinis di coinvolgere l'istituto in questa attività. Quest'idea poi ha trovato, dopo la legge del 2018 che ha riformato di fatto il settore dello spazio e dell'aerospazio, un compimento nel DPCM emanato nel 2018, se non ricordo male, di costituzione del cosiddetto Comint, che è il comitato interministeriale che presiede alla materia e che ha il suo punto di coordinamento nell'ufficio del Consigliere Militare della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'ambito del Comint, come da DPCM che vi ho appena citato, ISPRA, credo sia l'unico ente di ricerca citato dopo, a parte l'ASI e forse il CNR, viene indicato come l'ente di supporto alla segreteria tecnica del Comint. Il compito dell'ISPRA è stato ed è quello di, in qualche modo, collazionare attraverso dei meccanismi che poi i colleghi vi diranno, le esigenze e i bisogni delle collettività di utenti al fine di poter poi portarle al tavolo ministeriale e incrociarle con le esigenze e i bisogni dell'industria nazionale per poter portare poi il Sistema Italia in questo settore a proporre soluzioni, innovazioni e anche forme di investimento nelle quali l'approccio dal basso e l'approccio dal lato, cioè l'approccio delle comunità e l'approccio delle industrie trovino un punto di convergenza. Non è stata un'operazione semplice, va dato atto ai colleghi di essersi impegnati, intanto si sono formati su questa materia che, ripeto, non è per nulla semplice perché ha meccanismi peculiari e particolari sia a livello nazionale sia a livello internazionale, di aver creato, attraverso alcuni strumenti che vi descriveranno in seguito, in particolare gli strumenti dell'User Forum, una comunità di utenti nazionali che intanto si è implementato dal punto di vista numerico ed è stata anche questa formata e informata, ma soprattutto una comunità di utenti che riesce a vedere i vari aspetti di questo programma in una chiave sinergica. Perché questo seminario oggi, fortemente voluto dal direttore? Perché siamo alla vigilia di date importanti, termini da fissare, bisogna avere chiaro tutti quanti quali sono le peculiarità e le caratteristiche della partecipazione dell'Istituto a questi programmi per poter contribuire attivamente, tenendo conto che impegneranno attività dell'Istituto anche queste trasversali. Abbiamo avuto qualche problema, ma il tema della rete informatica, delle infrastrutture informatiche ovviamente è uno dei temi che sarà centrali proprio per consentirci di svolgere il nostro ruolo in materia di osservazione della Terra. Ci sono poi tutta una serie di altre attività e di altri punti di relazione legate all'attività di altre amministrazioni. Ve ne cito uno per tutti, visto l'esperienza che stiamo facendo anche in questi mesi. Ovviamente ci sono dei programmi che saranno tirati fuori dal comitato interministeriale che dovranno necessariamente interfacciarsi con altri programmi nazionali. Penso per esempio alle relazioni tra il piano per lo spazio e il piano nazionale per la ricerca. Quindi la materia è molto vasta e complessa e io non solo voglio ringraziare il direttore e i colleghi per aver organizzato questo seminario e voi che ci state partecipando, ma vorrei anche che questi momenti di formazione e informazione diventassero in qualche modo momenti, non dico permanenti, ma insomma ci fosse una programmazione costante nel tempo, anche magari più breve, in modo da poterci tenere tutti costantemente aggiornati proprio in un'ottica di interrelazione e di collegamento tra le diverse discipline e i diversi settori di attività dell'Istituto. Questo poi ovviamente, come vi dicevo, in una logica di sistema. Ecco, mi fermo qui perché ho già preso sette minuti e dobbiamo recuperare la mezz'ora che abbiamo perso per ragioni tecniche, quindi ricedo la parola al moderatore perché poi la passi al direttore generale. Io vi ringrazio, vi saluto, alle 11 ho un'altra videoconferenza, quindi mi stacco adesso fra qualche minuto da questa. Buon lavoro. Grazie Presidente, ma passo direttamente la parola ad Alessandro Berti, il nostro direttore generale, per implementare ciò che ha detto il nostro Presidente. Prego Direttore. Buongiorno a tutti, molto brevemente, grazie al Presidente, ringrazio davvero il Presidente della Porta e ringrazio tutti i colleghi per aver in un qualche modo costruito questo programma. Guardate, riprendo un po' le ultime considerazioni per il Presidente. Il programma Copernicus che sicuramente da qualche anno vede numerosi dei nostri colleghi impegnati a realizzare tutta una serie di operazioni e di azioni, è un programma che sempre di più entrerà nella vita quotidiana dell'attività che noi andremo a svolgere, perché tutto il tema del monitoraggio dallo spazio, non c'è dubbio che sarà sempre più determinati, che sono poi dati fondamentali per tutte le attività che noi dobbiamo svolgere. Si tratta sostanzialmente del core business di un istituto come il nostro, così come lo è ad esempio per l'Agenzia Europea per l'Ambiente. Ricordo che oggi il programma Copernicus finanzia il 50% del budget intero dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, che ha come core business delle sue attività, proprio la produzione di dati. Quindi è evidente che questo programma, al di là dell'importanza più generale che è stata ricordata prima dal Presidente Laporta che ha per tutto il Paese, per noi riveste un'importanza decisiva per il futuro. È da qui la necessità progressivamente di far penetrare questa conoscenza e questa modalità in maniera uniforme all'interno del corpo di vita, cosa che ad oggi è stata parzialmente possibile. Abbiamo necessità quindi di introdurre anche negli obiettivi della nostra programmazione ordinaria, penso al nostro piano triennale, che non è altro che poi il piano che deve seguire quelle che sono le indicazioni strategiche che ci vengono date dal Consiglio amministrativo e che a sua volta raccoglie quelle che sono le indicazioni del Ministero, delle politiche europee. Quindi abbiamo necessità di introdurre questo programma che al momento anche formalmente non è completamente in linea con quella che è la programmazione dell'Istituto, dobbiamo insomma introdurla tutto tondo. Questo poi si espliciterà attraverso prima il piano triennale delle attività, gli obiettivi che dovranno essere dati ai dirigenti che ovviamente sono più interessati all'applicazione del programma e così via. Insomma, quindi dovremmo agire in due direzioni, come si suol dire. Uno dal cosiddetto bottom up, cioè dal basso verso l'alto, se usiamo una terminologia italiana molto chiara, cioè che è quello che stiamo facendo adesso. È costituita, i colleghi che più si occupano della questione, cercheranno di coinvolgere tutti quanti attraverso questo ciclo di conferenze, ma non solo, questa è una prima attività, ma ne seguiranno poi altre, vedremo poi come realizzarle e quindi cercare di coinvolgere il più possibile dal basso i colleghi. Dall'altro sarà compito mio, il basso, cercare di introdurre, come dicevo prima, il programma Copernicus, declinarlo in quelli che sono gli obiettivi dell'attività ordinaria dell'istituto. Quindi faremo un'operazione a Tenaglia, ma non perché siamo un esercito che dobbiamo conquistare chissà quali territori, ma semplicemente perché abbiamo la necessità di stare su questo programma come protagonisti, un programma che non solo è innovativo da un punto di vista delle tecnologie, dell'applicazione dell'economia spaziale, dello spazio, ma ripeto, sarà anche un programma che per le risorse che si porta dietro sarà fondamentale per la sopravvivenza delle nostre attività nel futuro. Quindi occorre che da un'intuizione, come diceva prima la porta sicuramente brillante del professor De Bernardini, da questa intuizione oggi poi si è costruito un qualcosa, bisogna dare un'accelerazione forte all'interno dell'istituto a questo tipo di percorso, perché i tempi sono maturi per poter a tutto tondo recepire completamente il programma all'interno dell'istituto stesso. Quando poi parlo dell'istituto ovviamente parlo anche poi del rapporto su cui qualcosa c'è da dire, ma su cui diciamo che è già attivo soprattutto per alcuni componenti, mi riferisco al tema della qualità dell'area, dove già molti prodotti sono stati in un qualche modo resi anche pubblici. Quindi queste sono le motivazioni principali che stanno alla base di questo ciclo seminario. Quindi grazie di nuovo a tutti i colleghi, chi modera chiara, quindi ti restituisco la parola. Buon lavoro a tutti. Allora, in realtà io non faccio altro che ridare la parola ai nostri esperti del programma Copernicus, quindi caro Nico, conduciti tu insieme ad Andrea e guidateci alla scoperta a questo primo appuntamento di presentazione del programma. Prego Nico. Io intanto vi saluto, buon lavoro a tutti. Grazie Presidente, buona giornata. Appunto, allora, stavamo dicendo che questo primo evento si contestualizza in una serie di seminari che potranno permettervi di poter capire quali possono essere per le vostre attività appunto l'utilità di quegli attrezzi in più nella vostra cassetta degli attrezzi che si chiamano Copernicus per portare avanti anche quelle che sono le vostre attività istituzionali che abbia spiegato sia il Presidente che il Direttore. Questo appunto, questo primo ciclo di seminari per far sì che possiate avanzare alla fine di questo percorso, di questi seminari, di avanzare a delle richieste formative per i specifici aspetti in cui il Copernicus può esservi utile nell'ambito delle vostre funzioni, anche ordinarie. Adesso non voglio rubare ulteriori tempo perché ne abbiamo, se ne è già andato purtroppo abbastanza, quindi passerei direttamente la parola al Professor Taramelli, che ricordo è il nostro Delegato Nazionale al Copernicus User Forum e deputato della Presidenza delle Consiglie di Ministri al Copernicus Comiti, che è quello che porta in Europa tutte le nostre richieste di utenti affinché il programma Copernicus e User Driven per regolamento vada a soddisfare direttamente quelle che sono le esigenze coordinate degli utenti dei diversi stati membri. Qui chiudo e passo la parola ad Andrea. Nico ti ringrazio, io mi aggancio a quanto hanno introdotto Stefano e Alessandro che ringrazio e ringrazio chiaramente anche Nico e tutto il supporto, anche se ci sono state delle problematiche, ma va bene così, comunque l'importante è cominciare. L'idea è quella proprio come già è stato introdotto e anticipato e provare a capire e soprattutto illustrare in maniera semplice che Copernicus è uno strumento che è già in uso da parte di molti colleghi di Ispra, cioè è un qualcosa che non sostituisce il lavoro che è già in itineria in Ispra, ma dà degli strumenti in più e quindi degli strumenti che possano aiutare nel lavoro quotidiano quello che sono l'aggiunta di informazione rispetto a quello che già si fa all'interno del proprio percorso. Adesso condivido lo schermo se ci riesco. E se mi confermate che vedete lo schermo, inizio. Qui è arrivato. Ok. Allora, il Copernicus è un regolamento europeo, quindi è una norma assimilabile a una norma primaria nazionale in cui l'Europa ha scommesso e ha iniziato ad investire per fornire uno strumento che aiutasse il monitoraggio di tutti quelli che sono sia le metrici ambientali, sia tutte quelle che sono questioni che servono a monitorare crisi, aspetti per la sicurezza o comunque disastri naturali o collegati a quelli che sono gli impatti antropici. Quindi è un regolamento, è un programma che ha due punti fondamentali. Innanzitutto quello di mettere l'Europa e quindi gli Stati membri in una posizione dominante nell'erogazione di servizi primari. Ma soprattutto ha un obiettivo, chiamiamolo nobile, o comunque un obiettivo chiave, che è quello di fornire dati in una forma piena, gratis e completamente scaricabile tramite dei sistemi informativi. E deve quindi portare e sviluppare quello che è il sviluppo economico per far crescere la digital economy in Europa. Quindi il programma ha avuto come obiettivo quello di essere sempre molto legati a quelli che sono gli utilizzatori, quindi tutti quelli che sono le necessità reali di chi deve fare dei monitoraggi in ambito ambientale, ma anche in ambito appunto di crisi e di sicurezza nei diversi paesi. Per fare veramente una velocissima storia, l'obiettivo di questa prima presentazione non è farvi degli esempi specifici che saranno invece fatti dai nostri colleghi di Ispra, cioè da chi già ha iniziato a utilizzare questi dati nel proprio lavoro quotidiano, ma capire che è stato un percorso lungo, quindi per questo molto complicato, come hanno introdotto sia Stefano che Alessandro, cioè un meccanismo complicato che ha portato adesso ad avere una piena operatività e quindi una piena disponibilità soprattutto di questi dati e informazioni. Quindi è una storia che è andata abbastanza lenta, ma come dico io inesorabile, cioè da un manifesto di Baveno nel 1998 si è creata una base per implementare a livello europeo tutti quelli che erano gli accordi quadro tra l'Unione Europea e poi diversi Stati membri per portare questi metodi di produzione e disponibilità di dati attraverso un primo regolamento che si chiamava GMS, cioè Global Monitoring Earth and Security, e poi è stato trasformato nel 2013 in un regolamento che è stato nominato Copernicus, con quindi l'utilizzo di una serie di progetti che ai tempi erano FP7 e FP6, che portavano i primi passi nel costruire questa grossa disponibilità di dati e informazioni ed è una cosa fondamentale non vederlo solo come un programma che fornisce dati derivati da satelliti, ma tutta una serie di dati e informazioni che sono anche creati e strutturati attraverso tutti quelli che sono i dati in silo, tutta la parte modellistica, quindi è un programma che copre tutte le diverse tipologie di dati e informazioni che possono essere messi a disposizione e condivisi a livello europeo. Nel passaggio tra quello che è stato il programma GMS al regolamento Copernicus si è passati da quello che erano progetti di ricerca a cui diversi gruppi di ISPRA hanno partecipato nella creazione di questi servizi operativi, quindi diversi colleghi che poi presenteranno quella che è stata la loro esperienza e quella che continua ad essere l'esperienza, hanno contribuito, quindi l'ISPRA sin dai suoi inizi ha contribuito alla formazione di questo programma e quindi alla formazione di quelli che sono i servizi operativi, che hanno un livello europeo, con una quantità di fondi che sono stati messi dalla Commissione europea, quindi dagli Stati membri, che è notevole, quindi nella parte, chiamiamola preoperativa, quella che ha contribuito a preparare questo sistema di erogazione di dati e informazioni, l'Unione Europea ha iniziato a mettere questi che erano 1.3 bilioni di euro per portarlo in operatività, ha poi finanziato in quello che è l'ultima parte che si sta concludendo adesso, nel 2020, con 4.3 bilioni di euro e finanzierà nel prossimo settennato, sempre con il nuovo governo della Commissione europea, ulteriori circa 5 milioni di euro per fare in modo che questo sistema venga sempre di più utilizzato all'interno di quelle che sono le competenze dei diversi utenti finali, di cui il segmento ambientale rappresenta uno dei maggiori segmenti di interesse, perché è un programma che nasce con un obiettivo molto focalizzato su quello che è il monitoraggio di tutte quelle che sono le matrici di osservazione della Terra. Quindi il programma, e quindi la governance, è gestita dall'Unione Europea, ma la cosa fondamentale che ci piace comunicare o comunque far passare è che è divisa in tre grandi componenti, che sono quelle oggettivamente, quelle legate allo spazio, quindi la produzione di dati da parte dei satelliti, quindi i satelliti che sono gestiti da due enti del livello europeo che gestiscono e producono quei dati che sono ESA ed EO, per esempio i dati meteorologici, ma ci sono anche due ulteriori componenti, quindi per sottolineare che non è un programma spaziale, ma è un programma che invece prende molte altre componenti, che sono quelle dei servizi, anche qui delegate a una serie di enti del livello europeo, di cui uno degli enti a cui Ispra è particolarmente legata è l'Agenzia Europea per l'Ambiente, poi andremo nel dettaglio a vedere che cosa fanno, nello specifico, diverse agenzie che contribuiscono all'erogazione di questi servizi operativi, è una componente in situ, sempre coordinata dall'Agenzia Europea dell'Ambiente che mette a disposizione e quindi utilizza tutti quelli che sono i dati nazionali che vengono volontariamente messi a disposizione dai Paesi membri all'interno di questo sistema europeo. Quindi è proprio per iniziare a sottolineare come non si parla solamente di satelliti, i dati che escono fuori dai satelliti, ma tutti quelli che sono le implementazioni sia a livello europeo ma anche a livello nazionale per la produzione di informazioni. Quindi il programma Europeo Copernicus ha una serie di ambiti di competenza, ma soprattutto ambiti di ricadute che vanno da quello che è il climate change, la parte di sicurezza, la salute, tutto quello che è la blue economy, l'energia, le risorse naturali, la parte delle foreste, la pianificazione urbana, tutto quello che è legato alla gestione delle emergenze e quindi anche tutti quelli che sono gli ambiti delle assicurazioni, il turismo oppure lo sviluppo e la cooperazione. Questo proprio per sottolineare come il Copernicus non è semplicemente un assorgente che fornisce dati gratuitamente, ma è un programma, quindi è un meccanismo che gli stati membri, e l'Italia è stata uno degli stati che ha più sostenuto questo programma, attraverso la condivisione, soprattutto la messa in operatività di tutta questa serie di informazioni. ISPRA sin dalla sua creazione ha partecipato a questo percorso, come ha detto Stefano, è un'intuizione del primo Presidente, ma che poi è continuata, anche quando poi dei Bernardini sono stati più Presidenti di ISPRA, i Novi Vertici, cioè il Presidente Laporta, ma anche il Direttore Generali Bratti, hanno proseguito in questo percorso. considerando che appunto l'ISPRA ha partecipato, e quindi tutta una serie di persone, ma anche di dipartimenti in ISPRA, hanno partecipato a questa costruzione e continuano a lavorare all'interno di questo percorso. È chiaro che nel momento in cui questo meccanismo, comunque questo programma, a livello europeo e a livello nazionale, ha iniziato ad avere una forma operativa e quindi una condivisione sempre più ampia di questa tipologia di approccio, la necessità è quello che diciamo che sempre più quello che sono le necessità degli utenti, quindi le necessità di quelli che sono gli utilizzatori finali di possibili dati e informazioni che possono uscire dal Copernicus, possano partecipare e avvalersi di questa grossa potenzialità, ma visti anche i grossi investimenti che fa l'Unione Europea e diversi Stati membri, tra cui l'Italia. Quindi il punto fondamentale è che il Copernicus è un programma che è totalmente guidato da quelle che sono le necessità dell'utenza, quindi le necessità di quelle che poi possono essere necessità di diversi gruppi, di diverse singole persone che fanno parte anche dell'ISPRA o anche di tutto il Sistema Nazionale della Presurazione Ambientale. E quindi ci sono queste tre grosse componenti in cui la parte spaziale e la parte in situ forniscono i dati di base e le prime informazioni che possono essere utilizzate e condivise e si passa poi a avere anche tutta un'ulteriore tipologia di informazioni che sono quelle che vengono elaborate da quelli che sono i servizi core che adesso andremo a illustrare molto velocemente. Questa prima presentazione, insisto, non entra nel dettaglio perché saranno poi gli esempi pratici si spera a stimolare un confronto sempre più acceso. Quindi il concetto è quello di trovare poi non solo un beneficio nel semplice utilizzo di questi dati e informazioni che arrivano dal livello europeo ma sviluppare tutta una serie di servizi operativi legati a quello che è il livello europeo e quindi l'utilizzo sempre più ampio all'interno anche del meccanismo che è di ISPRA e quindi di tutte quelle che sono le norme primarie che l'istituto deve poi implementare sulla qualità dell'area sulla parte ambientale sulla parte dei servizi ecosistemici su tutte quelle che sono le matrici che l'istituto quotidianamente deve implementare utilizzando anche questo ulteriore strato informativo. Andando molto velocemente la parte upstream quella dei satelliti già comprende avete cinque missioni satellitari che sono state lanciate dall'Unione Europea tramite l'ESA quindi non entro nel dettaglio ma ci sono cinque sentinelle che vengono chiamate sentinelle quindi ci sono due satelliti per missioni satellitari e quindi avete quello che sono le risoluzioni la sentinella 1 è un sistema radar con sei giorni di rivisita quindi sono due satelliti che ogni sei giorni passano sullo stesso punto la sentinella 2 che è un satellite ottico la sentinella 3 quindi tutta una serie di informazioni che è fondamentale pensare che sono comunque full free and open sono sempre disponibili è chiaro che è una quantità di informazioni che bisogna anche capire dove andarle a trovare perché ad oggi l'informazione non è scaricabile da un unico punto o comunque non è accessibile più che scaricabile da un unico punto oltre a queste diciamo prime missioni satellitari che comunque hanno una loro evoluzione quindi verranno potenziate con lancio di ulteriori satelliti per una completa costellazione di 4 satelliti per missione hanno anche un'evoluzione di ulteriori satelliti che verranno poi lanciate a partire da circa il 2030 quindi anche qui un'ulteriore informazione un'ulteriore disponibilità di informazioni e dati a cui gli utenti possono accedere c'è anche un punto da sottolineare che tutte quelle che è l'evoluzione quindi tutti quelli che potranno essere anche le successive missioni satellitari che si andranno a programmare e a lanciare all'interno del sistema Copernicus dipenderanno sempre da quelle che sono le reali necessità degli utenti finali quindi per dire un esempio potrebbe essere se per scopo di un reagio di qualità dell'area CO2 o quant'altro ci sono una serie di parametri o comunque di informazioni che sono necessarie il Copernicus deve avere un vostro feedback e quindi capire se ha un senso il lancio di una nuova sentinella o di un nuovo satellite oppure per i scopi del lavoro quotidiano che tutti noi facciamo una nuova missione non ha senso quindi è una cosa fondamentale quindi capire anche che tutto lo sviluppo di quelli che sono i nuovi dati satellitari dipendono sempre comunque di quelli che sono i requisiti di base che voi per primi potete esprimere perché potrebbe assolutamente venire fuori che rispetto a questi requisiti o vostre necessità non serve una nuova missione satellitare ma serve magari potenziare tutta quella che è la rete in situ quindi capire dove noi possiamo andare a richiedere anche agli investimenti dell'Unione Europea un potenziamento della rete in situ rispetto oppure un potenziamento di tutta una serie di una parte modellistica rispetto al lancio di ulteriori missioni satellitari oltre a quelle che sono sviluppate proprio dalla Commissione Europea e che abbiamo chiamato Sentinelle c'è anche la possibilità di accedere a ulteriori dati sempre di osservazione della Terra che sono le missioni nazionali che vengono messe anche qui condivise e pagate in Unione Europea per mettere poi a disposizione degli utilizzatori finali ci sono le missioni appunto anche nazionali c'è Cosmos SkyMed c'è per esempio la nuova missione per spettare le Prisma tutte quelle che quindi sono le disponibilità che ogni Stato membro che chiaramente ha poi le policy per la condivisione dei dati che possono essere richieste e anche queste sono tutta una serie di ulteriori dati e informazioni che possono venire utilizzate rispetto a quelle che sono gli obiettivi del lavoro quotidiano e come vedete sono tantissimi ci sono tutte le missioni francesi le missioni tedesche quindi spot prova play ad le rapidize spessissimo noi ci rivolgiamo in tanti ambiti e andiamo via a quelli che sono i provider privati per avere accesso a questi dati e informazioni senza considerare che buona parte di queste informazioni sono invece disponibili gratuitamente attraverso il Copernico quindi anche questo è un meccanismo che è poco conosciuto che invece ha una grossa potenzialità perché gli stati membri già pagano tramite la commissione europea la disponibilità di questi dati uno dei dati è per esempio il famoso dato Cosmos Sky un'altra gamba come dicevo prima è tutta quella parte in situ nel Copernicus ogni stato mette a disposizione e anche Ispra parte dei dati che sono poi utilizzati per reporting ambientali e quant'altro attraverso l'EA mette a disposizione attraverso il Copernicus tutti quelli che sono i dati in situ che servono a calibrare e validare tutta la parte di produzione di dati e informazioni del Copernicus non solo satellitare ma anche tutta la parte congelistica e poi per integrare tutto quello che sono le informazioni che forniscono i diversi servizi in maniera accurata quindi il ruolo del Copernicus è anche condividere tutto quello che gli stati membri decidono di mettere a disposizione tramite l'EA dei dati in situ quindi vedete come anche Ispra avendo un ruolo chiave nell'EA contribuisce a questo schema è fondamentale tenerlo in considerazione perché l'EA stessa e poi vedremo che la maggior parte di quelli che sono gli enti delegati della Commissione per tenere in piedi questi servizi operativi sia a livello europeo e poi questo sharing dei dati finanzia la sussistenza per esempio dell'Agenzia Spaziale Europea oppure dell'Agenzia Europea per l'Ambiente con dei fondi che superano ben più del 50% di quelli che sono i fondi operativi di queste agenzie quindi le agenzie stesse come l'AEA o l'Agenzia Spaziale Europea oppure SNWF per tutta la parte nella modellistica per la CO2 per il clima e per la parte qualità dell'aria viene finanziata a più del 50% dal regolamento copernico quindi tutti i fondi anche di sviluppo di quelli che sono il monitoraggio rispetto a tutte queste matrici viene finanziato direttamente dalla Commissione Europea tramite il copernico l'altra e terza gamba che è fondamentale da iniziare a vedere sono quelli che sono i servizi operativi del livello europeo i servizi operativi sono sei ad oggi e sono quello che fa il monitoraggio del land quindi dell'uso e della copertura del suolo quello che il monitoraggio del marine environment il monitoraggio dell'ambiente marino degli aspetti ambientali quello che è tutta la parte di monitoraggio dell'atmosfera il monitoraggio rispetto ai servizi di cambiamento climatici un servizio completamente legato all'emergenza e al supporto alle situazioni di emergenza e un servizio legato alla sicurezza tutti i servizi hanno comunque e sempre quello che si diceva prima l'accesso gratuito e open a tutte le informazioni tranne due servizi che sono quello di emergenza e il servizio di sicurezza mentre nel climate change in quelli che sono land cover land use marine environment o atmosfera chiunque di voi si può registrare sul sito e avere accesso a tutti i dati e le informazioni per quanto riguarda il servizio di emergenza e il servizio di sicurezza invece c'è un focal point nazionale che per quanto riguarda il servizio di emergenza è la protezione civile nazionale e per quanto riguarda il servizio di sicurezza è coordinato dal ministero della difesa quindi per avere quei dati e quelle informazioni bisogna rivolgersi al focal point nazionale che accredita o comunque fa una serie di richieste per conto dello stato membro e poi comunque può fornire i dati e le informazioni come vi dicevo i servizi operativi del governicus a livello europeo non sono gestiti direttamente dalla commissione europea ma la commissione europea ha individuato una serie di centri di competenza a cui delegato l'operatività dei servizi per quanto riguarda i servizi land sono sulla scala paneuropea e locale gestiti dall'agenzia europea per l'ambiente mentre per la parte globale sono gestiti dal centro di ricerca JRC che sta a Ispra avarese per quanto riguarda invece il servizio ambientale marino è delegato alla fondazione pubblica Mercator Ocean che è francese per quanto riguarda invece i servizi clima e qualità dell'aria è stato dato un contratto di delega al centro di ricerca che in questo momento sta reading SNWF mi sottolineo gli aspetti del centro di ricerca di SNWF perché chiaramente è un centro di ricerca sovraeuropeo che ha sede in Inghilterra ma avendo i fondi finanziati da più del 50% dalla commissione europea chiaramente dovrà necessariamente spostarsi quindi dovrà ricollocare tutti quelli che sono i suoi servizi operativi in altro stato è chiaro che è uno degli aspetti che è di interesse anche dell'Italia oltre a questi due centri operativi che sono clima e qualità dell'aria SNWF sta iniziando a costruire un ulteriore servizio operativo che è quello per il monitoraggio della CO2 perché sarà uno dei più grandi investimenti nel prossimo settennato del governo europeo e quindi tutti quelli che sono i contributi i requisiti o anche le attività che per esempio l'ISPRA il sistema nazionale per la protezione ambientale fanno e dovranno fare negli aspetti del monitoraggio della CO2 stima delle quote e quant'altro dovranno utilizzare sempre per norma europea tutto quello che comunque il servizio che si sta costruendo nel SNWF per il monitoraggio della CO2 inizierà a fornire per quanto riguarda invece l'emergency management service il centro di competenza è come si diceva il GRC di Spravarese mentre per il servizio di sicurezza è diviso in tre sottoservizi che hanno a che fare con gli aspetti di controllo delle frontiere che è implementato da Frontex la sorveglianza marittima che è il centro di competenza è Emsa e tutto quello che è il supporto alle azioni esterne che sono per esempio tutte le crisi non solo ambientali ma anche legate alle guerre e quant'altro è gestito da Satchen che è un centro le USC che è un centro satellitare collocato in Spagna come si diceva anche l'insitu e il coordinamento dell'insitu ha un suo centro di competenza che è l'agenzia europea per l'ambiente adesso farò una velocissima carrellata su quelli che sono esempi di prodotti cioè quello che è una serie di possibilità di informazioni che voi potete trovare nei servizi core quindi abbiamo visto che il servizio di monitoraggio del land ha al suo interno tutti quelli che sono gli aspetti di informazioni che riguardano ecosistemi biodiversità agricoltura foreste tutti quelli che sono informazioni legate a energia risorse naturali acqua e pianificazione urbana con prodotti che sono come si diceva globali a scala pane europea e locali invece di andare nel dettaglio oggi pensiamo che se sono una serie di colleghi che mostrano già come sono stati in parte costruiti questi prodotti e in parte come già vengono utilizzati all'interno di una serie di azioni che l'ISPLA stessa fa ci sembra che possa essere migliore per capire poi qual è il meccanismo quindi come vedete c'è il land cover a livello europeo il mosaico delle immagini specifiche informazioni sull'end cover o per esempio tutto quello che è il reticolo idrografico è il prodotto che rappresenta il digital elevation model quindi tutto quello che è la superficie la percentuale di aree costruite e quant'altro oppure le zone ripariali l'atlantico urbano o natural 2000 vedrete che molti dei vostri colleghi già partecipano non solo alla costruzione di questi prodotti informazioni a livello europeo ma poi fanno quello che si dice un downscaling cioè un'aggiunta di informazioni a livello locale per creare quello che sono servizi operativi che l'ISPLA comunque dovrà implementare utilizzando anche Copernicus scusate ho sbagliato sulla parte di aree di interesse e quindi esempi di prodotti sul servizio marino ambientale si ha a che fare con tutte quelle che sono informazioni relative alla sicurezza marina alle risorse marine tutti quelli che sono aspetti legati alla parte costiera e alla parte meteoclimatica il forecasting dell'oceanografia oppure tutte quelle che sono informazioni utili ai trasporti turismo ambiente o anche sversamenti energia quindi ci sono informazioni che sono appunto sea level la salinità temperatura dell'oceano CI dati e informazioni relativi a correnti venti oppure a dati di biogeochimica quindi clorofilla dati ottici biologia e altri aspetti stesso dicasi per il servizio qualità dell'aria anche qui le aree di beneficio sono diverse appunto inquinamento ambiente salute clima energie rinnovabili e anche qui si trovano una serie di prodotti legati alla qualità dell'aria alla composizione dell'atmosfera alle forze anticlimatiche all'ozono all'interno di ISPRA e anche nel sistema del sistema di protezione ambientale si sono iniziati a strutturare due già servizi preoperativi che utilizzano e che cercano di costruire un servizio di interesse nazionale che poi possa essere utile anche le realtà locali uno è il famoso qualità dell'aria e uno è il servizio legato a tutta la parte land ma dentro la parte land ci sono anche tutti gli aspetti che sono legati per esempio non solo all'habitat mapping ma tutto quello che è il consumo di suolo tutto quello che è relativo all'idromorfologia quindi vedete che ci sono n vostri colleghi che già partecipano pienamente in questo percorso stesso dicasi per la parte del servizio climate change e quindi anche qui tutti quelli che sono aree di beneficio legati ai cambiamenti climatici quindi che è la strategia di mitigazione e adattamento tutto quello che è il forecast meteorologico anche qui inquinamento e quant'altro quindi tutte quelle che sono le possibilità di trovare informazioni delle variabili climatiche essenziali tutte quelle che sono informazioni di supporto alla mitigazione e all'attamento dei cambiamenti climatici tutto quello che è il seasonal forecast e quelle che sono le proiezioni climatiche iniziate a capire che è quasi normale che molta del personale di ISPRA ha già avuto a che fare o comunque si troverà avere a che fare con questa grossa mole di dati e informazioni è chiaro che va capito il meccanismo su cui interfacciarsi e su come poi un dato che non era stato spezzato magari all'inizio specificamente per questo invece possa essere diciamo aiutato ad entrare in quelle che sono il lavoro quotidiano di ognuno di voi sugli ultimi due servizi che sono quello dell'emergency management ci sono la parte di dati informazioni rispetto a quelle che sono le attivazioni in situazioni di emergenza e tutte quelle che sono le situazioni sulle crisi umanitarie con la possibilità di avere una mappatura rispetto al risk and recovery una mappatura in accesso rapido e tutto quello che invece sono modellistica che contribuisce all'early warning cioè non agli alert ma al warning e quindi tutto quello che ha a che fare con forest fire e quindi la costruzione del sistema operativo EFIS e tutto quello che ha a che fare sui flooding che è il sistema operativo European Flood Awareness System l'EFAS che vengono girati all'interno del JRC gli ultimi tre servizi che sono quelli come vi dicevo che non hanno un accesso diretto disponibile a tutti ma vanno attivati tramite i focal points sono quelli di sorveglianza delle frontiere e vedete che anche all'interno di questo servizio ci sono tutta una serie di date informazioni per esempio su quello che è il coastal monitoring oppure sulla maritime surveillance all'interno del risco ci sono persone che sono già coinvolte con Emsa e Frontex in una serie di attività quindi la detection delle imbarcazioni l'all spill e quant'altro poi ci sono tutte le informazioni sull'external action che sono appunto le reference map la question plan e crisis situation come iniziare a capire è una vastità di informazioni che è molto ampia e ad oggi il modo di accedere a tutte queste informazioni è abbastanza distribuito quindi con una complessità di reperire queste informazioni che non è molto semplice quindi c'è tutta la parte che distribuisce il dato chiamiamolo più satellitare è gestito da quelle che sono i due centri di competenza che si occupano della parte prevalentemente spaziale e poi in parte spaziale in parte modellistica è un estato quindi per avere questi tipi di dati informazioni si accede tramite dei sistemi che vengono chiamati lo SHIB eccetera che sono nella pancia e quindi bisogna rivolgersi ad ESA e UdM mentre su tutte le altre informazioni in situ e degli altri servizi core bisogna accedersi e quindi registrarsi direttamente sui siti quindi dei SNWF per la parte climate service e atmosfera per la parte marino sul mercato rossian sulla EA sulla parte land e in parte del GRC e così dicendo quindi il data access anche qui che è open è completamente gratuito e accessibile ci sono una serie di chiamiamoli portali quindi c'è lo SHIB di ESA c'è lo Space Data sempre del Copernicus o c'è anche Eometcast c'è tutta la parte di accesso a Eometsat è chiaro che in questa complessità avere accesso a tutta una serie di altre informazioni resta ancora una cosa sufficientemente complessa perché oltre a questi tre grandi hub per accedere al dato satellitare ci sono anche gli ulteriori praticamente sei hub a cui ci si può registrare ed accedere a tutti i restanti dati informazioni che sono relativi al land l'atmosfera la parte marina ambientale la parte emergenziale e la parte di climate change come vi dicevo non abbiamo messo la parte sicurezza perché per accedere a quelli bisogna per forza passare attraverso il ministero della difesa quindi l'Unione Europea avendo anche avuto chiaro che c'era un'estrema complessità per accedere a questi tipi di date informazioni ha ulteriormente fatto un investimento cioè negli ultimi due anni sta cercando di creare quello che è il big data approccio cioè ha finanziato e sta finanziando quelli che sono stati chiamati i data access and information services i dias dove diciamo traghettare tutti i dati e le informazioni di tutti i servizi di tutta la parte upstream e di tutti i dati anche per esempio in sito e lea dando la possibilità a tutti gli utenti finali di accedere a questo tipo di informazioni da un unico nodo dando in più un ulteriore impulso anche per fare in modo che non venisse solo perpetuato il paradigma accedo al dato lo scarico nella mia infrastruttura e ci lavoro ma dare anche la disponibilità previo pagamento in questo caso è l'unica cosa che inizia ad avere un costo di iniziare a lavorare non più sul dato scaricato nel proprio computer eccetera ma in un'infrastruttura in cui si mette l'algoritmo e il processamento di questi dati e informazioni direttamente in un'infrastruttura che è lì dove sta il dato e anche in questo caso l'ISPRA si è iniziata a fare tutta una serie di testing se è più conveniente e quindi visto anche il discorso di partenza di questo seminario era conviene costruire una grande infrastruttura basata solo dentro l'ISPRA o in parte utilizzare queste infrastrutture che la Commissione Europea sta mettendo a disposizione dei stati membri ma soprattutto degli utenti finali per fare il proprio lavoro e questo dovrebbe anche semplificare non solo una serie di processing on demand ma anche aiutare gli utenti finali ad avere tutto il pacchetto di dati e informazioni in un unico posto dando quindi dei pro e dei contro perché poi comunque il dato non è disponibile nel proprio computer e quant'altro quindi non volevo dilungarmi oltre era semplicemente per dare questo primo inquadramento dicendo che ci sono tantissimi aspetti e ambiti che ISPRA stessa ha contribuito a creare nel Copernicus e in cui adesso si affaccia anche per utilizzarlo al meglio e quindi l'idea come già anticipato dall'inizio del seminario è darvi una vastità di informazione soprattutto in maniera pratica iniziare a far vedere quello che già è in essere e quelle che sono tutte le potenzialità e poi ISPRA come ha detto bene il Presidente ha iniziato ad avere un ruolo all'interno della nuova diciamo norma che ha riorganizzato lo spazio in Italia dando un'importanza molto ampia alla parte dei servizi perché di base tutta la parte che è osservazione a terra deve essere utile poi ai servizi quotidiani e sono uno dei più grandi investimenti che poi non sono di reale utilità quindi l'idea di questa serie di seminari è far capire o comunque far vedere che nonostante una complessità di linguaggio comunque una complessità di sistema poi alla fine il lavoro è più semplice perché quotidianamente molti di voi già lo fanno o comunque si stanno affacciando in questo mondo che nel meccanismo sembra molto complesso ma poi alla fine è l'utilizzo di un ulteriore strumento in quello che è il monitoraggio ambientale che voi tutti fate io mi fermerei qui senza poi entrare nello specifico e lascio la parola a Dico grazie Andrea per questa per questa utile chiara panoramica generale sul programma Copernicus questo diciamo quanto mostrato d'Andrea è per darvi un quadro in cui non solo l'ISPRA ma come ha sottolineato Andrea una moltitudine di comunità di utenti sta cooperando e lavorando assieme per poter portare a livello sistematico l'utilizzo di quanto erogato da Copernicus per le proprie attività avremo avremo anche modo in futuro di guardare meglio quella che è la governance nazionale in risposta a quella che è l'offerta del programma Copernicus questo non solo per le attività dell'ISPRA ma per una platea piuttosto ampia di comunità di utenti chiudo ricordando il prossimo il prossimo seminario che sarà centrato sull'Urban Planning Environment GeoAza Monitoring and Disaster Management che avverrà il 13 maggio dalle 11 alle 12 e 30 quindi vi prego di collegarvi perché anche se non è direttamente afferente alle attività di tutto l'istituto ma ascoltando quello che fanno altri magari qualche lampadina si accende e potete poi avere più chiaro il quadro anche trasversalmente di ciò che il Copernicus offre per poter poi chiederci inviarci delle richieste di approfondimenti relativi ai diversi aspetti che verranno toccati anche chiedendo ciò che non viene mostrato perché magari anche noi nella nostra organizzazione qualche pezzettino lo possiamo perdere quindi avere degli input da parte vostra su ciò che non trovate nel programma dei seminari che però potrebbe risultare utile ci prestiamo per svilupparlo con questo e come dicevi tu possiamo mettere poi a disposizione anche non solo una possibilità di interazione con domande eccetera che poi gestirete direttamente voi ovviamente ma anche tutti i materiali che magari presentiamo quindi video le presentazioni in modo che i colleghi possano approfondire quindi se siete disponibili noi potremo implementare anche quest'area con i vostri materiali e renderli disponibili ai colleghi assolutamente Chiara sì scusa Nico io volevo anche diciamo sottolineare che l'istituto ha fatto insisto grossi investimenti e ha creato un'area spazio proprio anche per questo motivo per avere un nodo a cui rivolgersi che non è solo Nico Bonora ci sono una serie di persone che sono ufficialmente coinvolte e quindi avere anche una possibilità di poter confrontarsi quindi l'area non è una cosa distaccata ma utilizzare diciamo il know-how e quindi anche la loro capacità per magari essere accompagnati in questo percorso ed è uno degli aspetti fondamentali perché io lo ribadisco le terminologie sembra un mondo molto complesso poi nella realtà con un minimo di accompagno le cose riescono più semplici quindi assolutamente la presentazione viene condivisa ci sono anche altre n documenti che possono essere assolutamente condivisi e messi a disposizione proprio per dare quelle informazioni necessarie non sufficienti per iniziare ad ampliare la rete Sì grazie per questa precisazione che chiaramente condivido e tanto per farvi dei nomi oltre a me Andrea quali riferimenti ci sono anche quelli di Serena Geraldini Antonello Bruschi Daniele Spizzichino e Maria Vittoria Castellani che facendo parte dell'area spazio sono attivi in quest'ambito e chiaramente si prestano anche a raccogliere le vostre le vostre istanze a questi si aggiunge Irene Rotiglio che è una colonna portante di tutte le attività che stiamo portando avanti e che seppur non afferisce all'area spazio da una mano enorme tutto quello che stiamo facendo quindi tutte queste persone sono a vostra disposizione per poter recepire quelle che sono le vostre richieste e in effetti l'area è stata creata anche per questo quindi ripeto siamo a vostra disposizione e con questo non ho altro da aggiungere se il direttore vuole dire due parole la conclutura perché ho spiegato molto bene alla fine nel senso che poi il motivo per cui stiamo facendo questi seminari è anche quello di avere dei feedback di ritorno per capire poi come tarare meglio l'intervento anche dell'area e dei colleghi che già stanno lavorando sul programma Copernicus niente semplicemente ho dato un'occhiata su YouTube diciamo che è andata c'è stato qualche momento ogni tanto si blocca cercheremo di capire meglio come fare però insomma volevo ringraziare ovviamente tutti quelli tutti i colleghi che hanno collaborato anche alla la 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 possibilità di svolgere questo questo prima puntata di questo seminario e e niente insomma speriamo che sia stato utile questo inquadramento e poi ci vediamo con le altre date per vedere di raccogli di presentare alcuni esempi specifici e pratici che credo possono aiutare ancora di più la comprensione di quello che si sta facendo di nuovo grazie a tutti quanti mi scuso di nuovo per il disguido all'inizio però insomma alla fine è andata ripeto dobbiamo prenderci un po' tutti le misure dobbiamo potenziare sicuramente il sistema dobbiamo lavorare sulla rete insomma ci arriveremo progressivamente facendo e arriveremo a ottimizzare sempre di più questa metodologia per quanto io comunque continuo a preferire quella dove ci sia un minimo di contatto personale che spero prima o poi si ripristinerà grazie davvero e buona giornata a tutti buon lavoro arrivederci grazie a tutti arrivederci grazie